Comincia il 4 agosto con la via Crucis nella piazza Basile, proprio attorno al santuario, la festa del Redentore. Il 5 e 7 agosto ci sarà il Santo Rosario alle 18.45 e messa alle 19.15. Mentre il giorno della festa, il 6 agosto, viene celebrata la solennità della trasfigurazione di Gesù con le sante messe alle ore 7, 8 e 19.30. La festa del Redentore, innanzitutto, è una festa della Chiesa. Vogliamo ricordare Cristo che diventa la nostra salvezza, ma la salvezza scaturisce dal dono della libertà, la libertà di scegliere Dio. E chi sceglie Dio trova la salvezza. E allora la Chiesa vuole proprio portarci a questo grande evento del Cristo che ci libera dal peccato e ci dà la gioia di essere figli di Dio, di appartenere al Signore. E quindi, ecco, perché il fine della nostra vita è proprio Dio. La nostra vita, sia che viviamo, sia che moriamo, dice San Paolo, appartiene al Signore. E allora dobbiamo comprendere che ogni nostra azione deve essere fatta per amore al Signore, perché noi dobbiamo amare il Signore. E quindi chi ama il Signore troverà la gioia, perché Cristo è la nostra salvezza e il nostro tesoro. Il santuario sarà inondato dai colori e profumi dei fiori. Anche quest'anno, infatti, ci sarà l'infiorata. E anche tanta musica, con il concerto del Trio Malarazza, con Roberto Vitale, Rita Scarlata e Sergio Cutrera, organizzato dal Comune Lisseno e Proloco a partire dalle ore 21. Nella stessa giornata, anche in cattedrale, ci saranno dei festeggiamenti, con la messa alle ore 19 e la processione nel simulacro del Redentore per le vie del Centro Storico, accompagnato dalle note della banda musicale. Grazie a tutti.